Ciao ragazzi e bentornati dal vostro Loretech. Qualche giorno fa ho visitato il Mi Store alla Dgeo. È stata veramente una bella esperienza poter toccare con mano tutti quei prodotti che vediamo soltanto online ed è per questo che ho deciso di acquistare dei prodotti. Volete sapere cosa comprate il vostro Loretech? Scoppiamolo insieme dopo la sigla. Allora vediamo cosa c'è nel sacchetto misterioso. Primo prodottino mouse wireless di colorazione bianca per la mia nuova scrivania e questa è la Mi TV Stick. Allora dopo il grandissimo successo della Fire Stick di Amazon ho deciso di acquistare questa che è la Mi TV Stick. Questa chiavetta ci permette di rendere smart qualunque tv o monitor. Ero veramente curioso di provarla e ho deciso di acquistarla. Per ogni unboxing che si rispetti ci muniamo delle nostre forbici. Cominciamo con il primo prodotto. Ok abbiamo tagliato il sigillo. Packaging veramente sempre molto curato. qui abbiamo il nostro prodottino. Ok lo mettiamo un attimo da parte. Qui abbiamo il libretto di istruzioni. Allora vediamo come funziona. Questo si dovrebbe ruotare per essere aperto. Ok allora funziona con due pile mini stilo. Qua ci dovrebbe essere il ricevitore. si esatto. Allora vi faccio vedere che è stato brandizzato anche il ricevitore. Ok qui abbiamo il pulsante di accensione e spegnimento. queste piccole gommine. Funziona a 2,4 GHz. Quindi sia bluetooth che wifi. Questa è veramente una comodità. Allora tasto destro e tasto sinistro. Qui abbiamo la gestione della rotella. Della velocità dello scroll. Ecco abbiamo questi due pulsanti personalizzabili. Credo di scelta rapida. Ottima. Devo dire l'ergonomia. Mi piaceva questa colorazione. Anche qui c'è il logo. Come vedete qui di Xiaomi. Molto molto silenzioso. Ha il feedback veramente ottimo. Ok passiamo al secondo prodottino. Ci muniamo delle nostre forbici. Andiamo a rimuovere. Ecco in questo caso i sigilli. Ok uno. E due. E lo andiamo ad aprire. Eccolo qua. Una confezione molto simile a quella della file stick. Allora qui abbiamo la nostra chiavetta. Manuale di istruzione. E qua abbiamo tutta la cavetteria. Prolunga HDMI. E qui abbiamo il telecomando. Ve lo faccio vedere. Tasti personalizzati. Netflix. Prime video. Tasti del volume. Per aumentare e abbassare il volume. Tasto indietro. Menu. Questo richiama l'assistente vocale. Accensione e spegnimento. E poi l'adattatore per collegarla a una presa di corrente e alimentazione micro usb. Allora è di materiale plastico. Abbiamo questa parte in nero lucido. Con questa parte in nero opaco. Brand Xiaomi in nero lucido. E qui abbiamo l'attacco HDMI. Da questa parte qua. Abbiamo la connessione micro usb. Per alimentare la nostra chiavetta. Dimenticavo. Dando un'occhiata. Alla confezione. Vediamo un full hd. Assistente vocale. Google assistant. Tutte le applicazioni che possono essere riprodotte ed eseguite attraverso la chiavetta. Qua abbiamo l'anteprima della confezione. E qua abbiamo i tre step per il collegamento. Questo poi lo vedremo in un video dedicato. Se siete indecisi su cosa comprare e siete nei pressi del Mister di Verona. Chiedete di Giovanni. Esperto qualificato che vi seguirà passo passo nella scelta del vostro prodotto. In base alle vostre esigenze. In questi giorni questi prodotti li proverò, li testerò e vi porterò una recensione completa. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se conoscevate il marchio Xiaomi. Se avete già provato qualche accessorio scrivetemelo. Hashtag è il nome del prodotto. Qui sotto in descrizione se volete approfondire il mondo di Xiaomi. Vi lascio una playlist con altri prodotti che ho provato. A questo punto non mi resta fare altro che salutarvi. Da Xiaomi e Lorettec era tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!